Il Comune di Fano chiude il bilancio consuntivo 2017 con un avanzo di amministrazione di 23.256.000 euro. Il documento che sarà portato a breve in Consiglio Comunale prevede che una parte di questa cifra, nello specifico 5 milioni di euro, possa già essere utilizzata per l'edilizia scolastica Vedi Scuola Materna Rosciano Cucurano per 4.050.000 euro e per l'impiantistica sportiva per un importo di 950.000 euro. Se è vero che lo sviluppo del territorio e la sua crescita economica si misurano in base agli investimenti effettuati, i numeri del Comune di Fano parlano da soli. Nel 2017 sono state portate a termine oltre 10 milioni di opere pubbliche, tra le quali spiccano i 4.380.000 euro per la manutenzione stradale e il 1.068.000 euro per le scogliere. Altri importi importanti riguardano la manutenzione dei cimiteri, 680.000 euro, la riqualificazione della Rocca Malatestiana, 430.000 euro e il restyling della sede comunale con 330.000 euro. Inoltre la tanto agoniata pista ciclabile Fano Fenile per 299.000 euro. Importanti voci anche per l'edilizia pubblica, 375.000 euro per la sistemazione dell'ex caserma dei Carabinieri, la riqualificazione di via Garibaldi, 250.000 euro e il risanamento conservativo dei tetti della sede comunale Pinacoteca e Sala dei Globi, che sono costati 360.000 euro. Inoltre la sistemazione dell'ex tribunale per il trasferimento degli uffici comunali per un importo di 110.000 euro ed inoltre anche il consolidamento di un importante monumento cittadino, le Mura Malatestiane, che ha avuto un intervento per 180.000 euro. Sempre nel 2017 sono stati effettuati interventi anche di sicurezza passiva e sul verte pubblico, con somme meno impegnative, ma di grande sostanza come l'installazione di impianti di videosorveglianza e l'arredo urbano in Sassonia e la sistemazione della bellissima Darsena Borghese. Altre voci che in passato erano con il segno o meno, grazie ai vari interventi di riqualificazione di diversi immobili di proprietà comunale, hanno determinato una forte riduzione del costo della voce fitti passivi. Nel 2017 sono state finanziate opere pubbliche per 4.383.000 euro che non sono ancora completate o non sono state ancora aviate, ma che modificheranno sostanzialmente il paesaggio urbano, migliorandolo notevolmente. Stiamo parlando della riqualificazione del Pincio per 950.000 euro, l'impianto di sollevazione delle acque meteoriche del Lido con 800.000 euro e il tanto agoniato dragaggio selettivo delle Darsene all'interno del porto per un importo di 845.000 euro. Anche nel 2017 il Comune di Fano risulta tra i più virtuosi delle marche e a confermarlo ci sono due dati. Il non aver acceso nemmeno lo scorso anno dei mutui con un trend di riduzione dell'indebitamento che ammonta a 9,256 milioni di euro contro i 9.818.000 del 2016 e i 10.467.000 euro del 2015. E' l'indicatore anche di tempestività dei pagamenti che vede il Comune di Fano tra i migliori pagatori dei propri debiti con 18 giorni in meno rispetto ai termini previsti per legge. Numeri, conferma l'assessore al bilancio Carla Cecchetelli, che stanno a testimoniare la capacità del Comune sia a gestire questi consistenti importi che la capacità di cogliere e sfruttare tutte le opportunità che le varie leggi oggi ci offrono.